Per la buca della settimana Golf Television è alla Franciacorta Golf Club insieme ad Andrea Zani, maestro professionista della PGI italiana. Ciao Andrea, una buca particolare, la buca 1, molti ricordano ancora il campo di Franciacorta, la vecchia 1 che era un dog leg a 90 gradi, un par 4, corto dog leg a 90 gradi, qui invece ci troviamo di fronte a una buca completamente diversa. Molte insidie, moltissime insidie, un par 5 dove un buon giocatore, un giocatore professionista in prima categoria ha due opzioni, o giocare un drive sopra l'angolo, quindi sopra le piante, con il rischio però di avere l'auta destra e l'ostacolo d'acqua di fronte e quindi la seconda opzione per una prima categoria a un giocatore professionista è giocare un ferro 3 o un ferro 2 per posizionare la palla più o meno in questa posizione, quindi oltre il dog leg e avere la possibilità anche qui di giocare o un ferro 9 in sicurezza prima del lago oppure rischiare un legno 3 per cercare il green. Nella prima opzione dove giochiamo il drive dal battitore possiamo giocare addirittura un ferro 7 o un ferro 8 il green. Quindi diciamo che comunque questo per un prima categoria è chiaramente un protezione di fronte. Si, trova di fronte due opzioni. Per un secondo e terza categoria la scelta è chiaramente obbligata, è stare davanti. È un drive o un legno 3 a rimanire. Centro-sinistro del ferro. Esatto, centro-sinistro del ferro per stare lontani il più possibili dalle piante del dog leg per poi fare un colpo prima del lago e poi attaccare il green da 100 metri. Un approccio tutto sommato facile. Si, 100 metri comunque col lago di fronte e il bunker sulla sinistra non è una buca scontata diciamo. Bene, allora andiamo a giocarlo insieme? Andiamo. Proviamo. Ecco Andrea, allora siamo pronti con il primo colpo al battitore. Esatto. A te, passi davanti alle piante. Cerchiamo di giocarla in modo aggressivo. La linea sarà quel pidone della luce che si vede oltre le piante. Ok. E cerchiamo di giocarla di sopra. Bene, proviamoci. Uh, ma... beh, direi il colpo perfetto Andrea questa, perché hai volato completamente le piante. Esatto. Io cerco una cosa molto più modesta e molto più umile. Stiamo un pochino più a sinistra. Quindi l'idea è quella comunque di stare in posizione abbastanza centro-sinistra del carbo, se riusciamo, o di fare leggermente girare la palla per accompagnare il dog leg. Esatto, sarebbe l'ideale. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Meglio di così. Allora Andrea, tutto sommato un buon primo colpo il mio, magari non troppo centro-sinistra, accompagnato un po' di più il dog leg della buca. Adesso io gioco un ferro 6, se sei d'accordo? Sì, 6 o 7. Per il mio handicap davanti all'acqua per avere un colpo. Stegniamo sulla sinistra e cerchiamo di rimanere prima dell'acqua. Per avere un po' di un colpo abbastanza facile. Sì, da un centinaio di metri. Proviamo. Vai. Allora, palla là per avere il colpo poi pieno. Allora Andrea, direi ottimo il tuo colpo, il primo a passare tutte le piante. Sei giusto centro-ferroi, un 160. 158 all'asta. 158 all'asta. La tecnologia ci aiuta a sapere le misure esatte. Cosa giochi? Giochiamo, visto il tempo, un punch col ferro 6. Perfetto. Un prima categoria, gioca lo stesso ferro, no? Qualcosina di più sicuro. Con questo clima un ferro 5. Ferro 5 è meglio. Bene, vediamo il colpo e ci spieghi anche qua al limite come aggredire la palla. Allora, qui abbiamo la palla leggermente più alta dei piedi, quindi andremo a giocare un ferro 6, quindi praticamente un ferro in più del necessario per impugnare più corto e giocare un mezzo colpo. La palla tenderà a chiudersi leggermente da destra verso sinistra. Il mio e il viaggio, il viaggio, il viaggio. Il mio invece è un terzo colpo al green, giocherò in ferro 9 Andrea, sono 110 metri, 108, 110 metri. Stessa procedura, leggermente più corto. Esatto, la pallola leggermente più alta dei piedi, quindi impugniamo un pochino più corto e via. Sembra ottima. Allora Andrea, direi il tuo è un colpo fantastico che giochi per un eagle tutto sommato realizzabile. Direi di sì. A me è andata bene come approccio, direi che posso tentare il birdie. Direi di sì, da un metro. Vediamo. Ripariamo il pitch. Pendenze strane in questo caso? No, in questo caso no. Siamo molto vicini da un leggero destra-sinistra, ma molto lieve. Leggermente a destra, direi sul bordo. Facciamo la classica routine, ognuno alla propria. Ecco, quel dito sul grip? A me serve come sensazione per tenere le mani ferme. Ok. Nel momento in cui muovo il polso sinistro lo sento molto meglio con il dito. Testa ferma, giusto? Bravissimo, e mani ferme. Sbagliato. Complimenti, grande eagle. La buca della settimana era la 1 di Franciacorta con Andrea Zani. Grazie a tutti.